Paolo Esposito lascia l'incarico di coordinatore dell'USRC e in una lunga nota parla della sua esperienza e soprattutto ringrazia città e stampa. Un cammino, racconta Esposito e quasi sei anni di SORC, lungo e articolato, fatto di lavoro intenso, dialogo costante col territorio e con le amministrazioni centrali dello Stato e le istituzioni tutte, e di costruzione e implementazione di processi robusti e sostenibili l'abito di costruzione. Da manager questo era il mio compito, creare e far partire una macchina, formare le persone, far partire i processi e renderli sostenibili e robusti nel tempo. La macchina è in sicurezza ed è giusto, dice Esposito, che il manager lasci spazio, dopo quasi sei anni di presidio quotidiano sul processo, ad un naturale e forse necessario ricambio alla guida. Da cittadina abruzzese da dirigente, che ha sempre adempiuto al proprio dovere professionale, cercando di mantenere un elevato livello di rigore etico, morale e attenzione verso le comunità, l'aver servito lo Stato e il proprio territorio in questi anni, in una missione come quella della ricostruzione, è motivo di soddisfazione e orgoglio professionale. E il mio pensiero e ringraziamento ha rivolto anche in media. Quotidianamente siete sul campo del raccontare e approfondire il complesso processo di ricostruzione dei nostri territori, cercando dalle parole dei protagonisti, a volte anche dei loro silenzi, dai numeri, dagli accadimenti, di capire e soprattutto far capire al lettore quanto più possibile di questa articolare realtà. Un lavoro non facile perché non è facile il tema e non è facile spesso capire le dinamiche di comunicazione dei tanti protagonisti.